salve ragazzi sono andrea bruno vi farò vedere in questo momento il sistema di controllo con cui noi teniamo sotto controllo la città noi con questo strumento abbiamo esattamente il quadro della situazione ecco guardate un po di cosa siamo dotati noi ecco questa qui è la la tastiera di comando questa è che questo qui al monitor dove faccio vedere tramite la tastiera di comando io posso avere lo zoom guardate questo zoom non so se vedete il monitor zoom e adesso e posso anche spostarmi nelle varie direzioni si sta adesso guardate adesso andiamo un po a vedere a farci un po i cazzi della gente con questo sistema qui di controllo noi riusciamo per esempio a vedere non so cosa stanno facendo è un po qua cerchiamo qualcuno e questo qua un po il nostro sistema che abbiamo per controllare diciamo quello che è quello che succede in giro vediamo vediamo qua ecco con adesso non so cosa si dire però con questo sistema qui che abbiamo noi di controllo riusciamo a tenere sotto controllo cosa fa la città e questo qui è la tastiera di comando e con questo qui noi riusciamo ad ingrandire per vedere cosa sta succedendo e cosa fa la gente ecco chiaramente siamo anche dotati di apparati audio per per anche per l'ascolto perché riusciamo sia a vedere che anche a sentire quello che fa la gente giusto per forma per diciamo costruire un certo sistema di supervisione ecco abbiamo anche degli apparati audio che ci permettono anche l'ascolto ecco adesso qui stiamo stiamo andando qui a quanto pare tutto a posto tolgo lo zoom tolgo lo zoom dalla dalla plancia e andiamo a questo punto a vedere anche altre possiamo andare a vedere anche altre zone della del posto noi questi sistemi qui di controllo li abbiamo installati in ogni angolo possibile città in modo che ci dia un quadro completo della situazione ecco giusto per riuscire così a tenere sotto controllo e capire quello che sta succedendo questo è una forma di controllo anche per garantire che non ci siano forme di criminalità di spaccio che la gente in casa non stia tramando alle nostre spalle ecco questo è un po' quello che volevo farvi vedere allora questo punto noi ci sentiamo alla prossima e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Tutto il modo? Tutto controllo? E' un'obiettivo che non si può prendere in questo momento. Quindi in un paese non c'è un'obiettivo. E anche corruzione è più semplice, come prima. Sì, in questo momento non c'è corruzione. C'è un'anno 2 anni fa, ovviamente, è più di 50% di oggi. E il narcotruttore? A narcotruttore non si può parlare, perché non può parlare. le persone che lavorano, anche le persone che pensano, non vogliono lavorare. Allora, venite al gordo. Ok, ragazzi, io ora vi mostro la nostra sistema, e voi non preoccupate, voi sapete che noi possiamo guardare a tutti dentro del vostro domo, e voi sapete a tutti, quando vi vivete a casa, quando vi fuori, quando vi fanno i lavori, quando vi fanno i lavori, quando vi fanno i torti, ma tutti sappiamo. Ma guardiamo la sua vita, ma anche magari possiamo vedere, dove il suo padre è venuto, quindi lo stiamo per la nostra sistema, possiamo per la nostra sistema per la nostra sistema, per la nostra persona e tornare a tornare. Beh, è così, che qualcuno è venuto, e poi si è venuto in un'altra parte, ma questa è la nostra sistema, che funziona bene, si si occupi le persone più effici, se abbiamo bisogno con noi, mi è molto attento con loro, si si occupi di loro anche i clienti vecchi, e tutti i ottimano, i non fattamenti queste domani, si occupano le persone meno di alcantinicali, quindi fanno uscoltare al gordo, quindi Livi lavoriamo bene. Non so, palla presto e di volume. Grazie per la visione! Magari! Grazie.